Tappa in Irpinia per il Latina per la prima giornata del campionato 2023-2024. La formazione pontina riparte da Daniele Di Donato in panchina. Il trainer, dopo la scorsa stagione all'esordio, si è guadagnato la riconferma. Il club nero-azzurro ha messo a disposizione del tecnico diversi elementi di spessore arrivati nel mercato estivo. Tra questi specca certamente Giuseppe Fella e non solo. Nelle ultime ore il direttore sportivo Matteo Patti ha portato all'ombre del Francioni del Sole e Paganini. Restando nella stretta attualità, Di Donato si è già concentrato alla vigilia sulla sfida del partenio Lombardi. Siamo forse la squadra più forte del campionato, detta di molti addetti ai lavori. È una cornice di pubblico importante, quindi c'è tutto bello per iniziare. È normale che sarà una partita dei figli dove non dovremmo bagnare nulla e stare attenti ai mini particolari. Anche se, ti ripeto, come tutti gli anni, le prime partite sono sempre quelle strane, no? Può succedere di tutto. Il Latina si presenterà in Irpina con il 3-5-2. A guardia di Cardinali tra i pali, difesa 3 composta da De Santis, Marino e Di Renzo. Ercolano sulla catena destra, Gallo sul versante opposto. Di Livio, Cittadini e Riccardi a centro campo. Fella e Fabrizi in attacco. Saranno 86 i sostenitori pontini che questa sera prenderanno posto in Curva Nord per la gara contro Ravellino. Questo, il dato della prevenita intera laziale, non sono stati venduti. Pertanto, 414 taglianti su 500 destinati alla squadra ospite che non potranno più essere messi a disposizione malgrado il sold out registrato giovedì scorso.